Ripeto, i comuni nella stragrande maggioranza, ma si è capito anche da stasera, anche dalle interviste che avete fatto, non hanno immobili, almeno i comuni medio-piccoli, non hanno immobili agibili da dare per l'accoglienza. Perché quando hanno avuto queste situazioni le hanno utilizzate tipo per i centri diurni anziani, parliamo delle scuole dismesse, quasi tutte le hanno riutilizzate per creare dei centri aggregativi, degli spazi che sono utilizzati. E quindi adesso se i numeri non si riuscirà ad intervenire coinvolgendo l'Europa, ma in brevissimo tempo, temo che cominceranno i prefetti, io spero e auspico e faccio un appello in questo senso, sempre parlando con le amministrazioni comunali, creando un tavolo di raccordo, temo che cominceranno a cercare altri spazi di proprietà pubblica e quindi qui parliamo, si stanno ipotizzando, io so che un lavoro di questo tipo era già stato fatto, almeno di verifica dello stato di alcune caserme, si stanno pensando a degli ospedali dismessi, si stanno pensando a spazi che raccolgono più persone, che però non sarebbe il sistema che per il Veneto, non è il sistema migliore, però se non emergono questi magari spazi, appartamenti di privati, di case coloniche che sono chiuse, questa sarà la strada che percorreranno, non ce ne saranno altre, questo è il tema. Io credo che non sia possibile lasciare soli i prefetti in questo senso.